Amici, benvenuti e con estremo piacere che vi presento la prima serie speciale che porto qui sul canale. Sarà dedicata alla stampa 3D e vi terrò compagnia con questa tematica per tutto il mese di marzo, a partire da questo giovedì. È una serie speciale, quindi non andrà a intaccare quella che è la programmazione classica del canale. Chi di voi mi segue sa che pubblico ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì un video, quindi questa è una serie speciale che sarà presente qui una puntata ogni martedì e giovedì appunto per tutto il mese di marzo. Sono in totale nove puntate in cui andremo a scoprire la stampa 3D, quindi che cos'è, come funziona, quali sono i materiali, cosa si può fare, insomma andiamo ad approfondire questa tematica. Nel video che ho fatto a fine anno, quello degli auguri, avevo promesso che mi sarei impegnato di più qui sul canale per portare qualcosa di nuovo. Non è semplice, sapete che il tempo che ho a disposizione non è molto, ma questo è il primo progetto che sono riuscito ad ultimare. Ce ne sono altri, sto pensando ad altre cose interessanti, se avete qualcosa anche voi da suggerire, fatelo come sempre, sapete che i vostri suggerimenti per me sono preziosi e ogni volta che posso cerco di fare appunto un video sulla tematica che mi indicate. Bene, quindi proprio come una serie tv inizierà da questo giovedì, in totale nove puntate, ogni martedì e giovedì segnatevi l'appuntamento qua per parlare di stampa 3D. Questo significa che per il prossimo mese ci sarà un video al giorno. Io spero che questo piccolo regalo, insomma, che ho voluto farvi, ma che ho voluto fare anch'io perché come vi ho detto voglio puntare di più su questo canale, sia apprezzato. Come al solito io vi ringrazio, tutti voi che mi seguite ogni giorno, vi raccomando condividete queste cose con i vostri amici e non mi resta che dirvi ci vediamo ogni martedì e giovedì con la stampa 3D ma negli altri giorni anche con tutti gli altri video. Ciao! Ciao!